19 gradi di temperatura ai primi di marzo, un anticipo di primavera che dura in effetti da qualche settimana a livelli seppur leggermente inferiori. Vista da chi deve riscaldare la casa in cui abita è una buona notizia, soprattutto se è riscaldamento autonomo. Per le aziende che erogano il gas invece decisamente meno. Il mercato soffre di una crisi, il mercato soffre di temperature anomale e dare inevitabile una contrazione. Gli ultimi dati ci danno un meno 16% su scala nazionale dei consumi, molto ha influito l'aspetto delle temperature. Vorrei ricordare che due gradi in più a gennaio sulla media giornaliera, tre gradi in più a febbraio e per i primi giorni di marzo ancora due gradi in più. Tutto questo ha generato meno consumi, per fortuna delle famiglie perché in un momento di difficoltà va bene anche così. Meno contenti ovviamente sono le aziende. Il mercato libero è comunque un terreno che tiene viva la competizione fra le varie aziende erogatrici. Un quarto della clientela inizia a scoprire vantaggi dello stipulare un contratto via web. Si risparmia fino a quasi il 10% dell'importo medio. Noi proponiamo un contratto, a differenza dei nostri competitor, direi abbastanza lungo, minimo 24 mesi di contratto. Quindi l'opportunità di stare tranquilli proprio per due anni con un prezzo garantito. Tranquilli anche per chi non è a vezzo, la facilità di poter andare online e quindi completare come la procedura? Guardi, oggi il 25% del mercato ama farsi i contratti e ama spendere attraverso il web. Questo per noi è una novità, è un mercato importante, è un mercato destinato a crescere e quindi con facilità, 15 minuti del proprio tempo, con un po' di documenti di fianco al computer si riesce a portare a casa un contratto che fa risparmiare. Ad incidere nuovamente è la tassazione, rappresenta il 50% per i contratti di luce ed il 40% per quelli del gas e le tariffe con questi balzelli non possono diminuire in modo cospicuo.